stevano vince al centro parrocchiale poi gennari a salvare mingardi la difesa sulla parallela di parrocchiale stisac dalla seconda linea e per gli attacchi dovete chiamare stisac per le difese signori chiamate la parrocchiale perché in questa azione ha fatto due difese veramente importanti stisac non passa con la difesa sul profondo di grey allora ancora il pallonetto di mingardi difeso al coperto da parrocchiale poi gennari non chiude oro la tiene super per sfida che non passa evitiamo la risposta di stisac guardi sulla parallela che salvataggio parrocchiale allora la risposta di gennari distinto la copertura di l'azzo vincere correre polter alza per la stessa mingardi il muro poi parrucchiale da prendersi anche questa che non ha salvataggio pazzesco mistisac che non chi chiude ma c'è un'altra possibilità per mozza ancora con gennari in parallela guardi senza posizione del muro però parrocchiale è andata a prendere anche questa in difesa mingardi in pallonetto rola tiene su parrocchiale palalta per stisac la difesa in posto sei di un gureano dall'angolo in posto cinque zannoni per mingardi con la palla ancora staccata la martellata tenuta da parrocchiale poi stisac la manda di là a un gureano dalla seconda linea la difesa di gennari a una mano stisac appoggia ancora di là un appoggio che non tenuto bene da busto poi orro apre partita iva si mette proprio ciao